c'è una baglieria allucinante flash praticamente il cane non socializza da un mese e quindi quando sente a bagliare sbrocca io odio queste cose mi fanno vomitare però a sto punto cioè raga sto pezzando sto pezzando dal sudore praticamente il mio fidanzato non l'ho mai più sentito un giorno all'altro è sparito ed è scomparso quindi io in realtà raga avviso che me lo chiedete sempre però vi dico la verità è da un mese che non lo sento ovviamente mi ha detto che non stava bene io ho detto che l'avrei aiutato ed è sparito completamente poi adesso se ne esce con queste storie dove posta dei direct dove le puttane gli mandano la foto della figa del culo io ovviamente da questo personaggio da queste persone mi scosto completamente non sono persona che sta con gente del genere mi fa anche un bel po' tristezza però insomma ricordatevi di stare sempre di fianco a una persona che almeno ha le palle di mollarvi tra l'altro io ho avuto rispetto di questa situazione e molte persone l'hanno avuto per me e ripeto odio queste cose gossip online non me ne fotto un cazzo mi fanno schifo ma questo è stato troppo le mancanze di rispetto no grazie papà versano da bere non girano voci dentro quel quartiere sono pazzo e lo sanno che non gli conviene alle medie macchina rotta mi prendono in giro ma non importa guarda ora macchina nuova tu sei la regina io faccio la scorta che che Grazie a tutti.